Tiè ma ma sai che mi capisci mia se fai per dire questo allarme bomba Nick? Mi ho capito Gibi, mi forse ho capito. Se lui gangli da bomba Nick del mondo, chi sta in fresca? Chi altro che una bomba? Chi vuoi parlare a tutti? Tutto vuoi parlare! Ti stai a capire, adesso mi interessa. No, no, fai per dire che capisci mia un riferimento, ecco. Vabbè, allora adesso ti spieghi, eh? Però poi spieghi meglio a Sarisa Bell vecchia la Giovanna. Vabbè, certo, con la Giovanna sì. Eh, con la Giovanna vieni a resta me. Con la Giovanna è nato parlo. Sì, sì. Ma piazza resa tanto e qui la Giovanna. Brava Giovanna, sei venuta da dentro al momento giusto. Brava. Ah sì, al momento giusto. E poi vedete, mi ha pianto un sbuton qui fuori lì, altro che al momento giusto. Un sbuton. Per lì? Eh, solito. Ti ho capito la mia, eh? Ti ho capito la mia. Adesso vieni qui che devo spiegare una roba al Gibi, eh? Sì, scusa però se ti interrompi Paolo. Sì, dì, dì, dì. Ma ti te sei buono di dimmi il perché io mi dici di venire fuori con il bumbunif biot? Scusa Giovanna, cosa ti faccia Mattia? Che roba lì? Bumbunif! Ah, bumbunif! Bell! Bell, pe! Giusto! Allora, ascolta Gibi. Sì. Riesci a chi che ti spieghi. Sì, sì. Allora, questo qui è il bombanic o bumbunif come la dice lì, no? Quindi questo qui è Lugan, ne? Sì. Chi è? Chi è? Allora, siamo al Monteceneri, eh? Scusa perché ti ridi? Scusa perché ti ridi? Non mi piace. A me, che sono da Lugan, abbiamo qui un bre, un San Salvador. Ma, per favore, eh? La, 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 la. Per favore, eh? Dai. E chi si può dare sveglia in zona dove si pensa? Giusto? Sì, sì, sì. Come no? In Ducasamaya. Ma, dai. Ma, c'è il bel oggett. Chi si chiama la mesolcina? La volta a plegni? Sì. 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 E chi si chiama? Sì. Sì. Ma, dici, è sotto ceneri in Ducalè. Sotto ceneri in Ducalè. Sotto ceneri in Ducalè, no? Eh, allora, ciò che riprendiamo, eh? Chi si chiama il bombanico di Lugan, eh? Quindi, praticamente chi ha giam al Ponte Diga, eh? No, Gibe, adesso, perché ti ridi, Gibe? Uh, come, ti metto un'altra posizione poi, tu dove mi yerde. No, 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 Gibe, gibe, scusa. Non voglio pensare, ma ne minuti, ti metto un'altra e poi miados. per piacere un minuto in mente che se invece di avere l'ugano un buon buon d'intermondo all'erbaerna chi avrebbe un futuro ballenberg questa quella che era mia su sul copione ti senti l'agostinetta e non mi avete fatto due dal cabaret dai per favore scusa, dai l'agostinetta in cui la scena qui fa la parte a quel che ho capito la gota invece dimostrare che da certi in Europa ma ne tendo in capi si va nanzi che le mi fa paura ok voi nanzi chi si ghe mendris giunfunti pegem cias e sottagge l'italia te capi perché ogni tanto i pesci pizza? nooo